salve oggi voglio presentarvi un nuovo prodotto dell'azienda che abbiamo già visto insieme diverse volte l'azienda inetec una si tratta di un'azienda tedesca oggi vi presento un caricatore a quattro porte usb 3.0 quindi ad alta velocità come vedete io già ho provato a ricaricare i miei dispositivi e devo dire funziona benissimo vi faccio vedere più da vicino questo prodotto come vedete è molto bello compatto a quattro porte quindi tre sul davanti una laterale con il suo filo qui attaccato che va attaccato al computer in più è provvisto di un altro filo lungo 90 centimetri come vedete con la sua bella fascetta che così lo possiamo richiudere e avere sempre a portata di mano senza alcun ingombro e senza che i fili possano aggrovigliarsi quindi dicevo questo serve per ricaricare il nostro caricatore a quattro porte è molto veloce ci permette di ricaricare contemporaneamente quattro dispositivi insieme anche mentre stiamo lavorando al nostro pc e quindi come vi ho detto è facilissimo da utilizzare la velocità è alta ed è molto comodo può essere portato anche in borsa perché come vedete è molto compatto il prezzo non è eccessivo e l'azienda è molto affidabile ripeto si tratta dell'azienda azienda tedesca inatec appresso con nuovi prodotti